Esaminare la membrana di sfiato al centro del coperchio posteriore giallo. Se è sporca o danneggiata, deve essere sostituita. Per la sostituzione, rivolgersi all'AirDoll o ad un distributore autorizzato. Controllare l'esterno del dispositivo per verificare l'eventuale presenza di danni. Per la sostituzione, rivolgersi all'AirDoll o ad un distributore autorizzato. Se al momento dello spegnimento del dispositivo, sul display viene visualizzata un'icona di grandi dimensioni che segnala che la batteria è quasi scarica, occorre sostituire la batteria. Il dispositivo viene fornito senza batteria. Prima di installare o sostituire la batteria, togliere gli eventuali adesivi paziente dal retro del dispositivo. Utilizzando un cacciavite a testa piatta o una moneta, non in dotazione, svitare il coperchio posteriore e toglierlo. Togliere la batteria usata e gettarla. Inserire la nuova batteria nell'apposito vano, attenendosi alla polarità riportata all'interno del vano stesso. Rimettere il coperchio posteriore, infilare le viti nelle rondelle e nel coperchio e stringerle. Sostituire la batteria almeno ogni due anni. Utilizzare sempre batterie nuove. Non utilizzare batterie ricaricabili. Controllare regolarmente il dispositivo. Se la spia verde non è presente o è diventata arancione, consultare la sezione sulla ricerca delle anomalie nel manuale d'uso. Applicare un nuovo adesivo paziente al dispositivo. Questa operazione è necessaria dopo ogni utilizzo clinico del dispositivo e ogni qualvolta si toglie il coperchio posteriore. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni d'uso. Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi all'AirDoll o ad un distributore autorizzato.